Sempre atteso, il calendario storico dell'Arma e dei Carabinieri arriva nel 2021 e speriamo che porti fortuna di un anno migliore rispetto a quello presente. L'edizione 81esima celebra il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri pescando tra le terzine della Divina Commedia, il richiamo ai valori fondanti del nostro paese e dell'Arma. Un processo di attualizzazione affidato all'omonimo e immaginario marisciallo toscano donato a Alighieri, le cui non casuali esperienze sono sapientemente illustrate da Francesco Clemente, artista figurativo della transavanguardia e attentamente descritte dall'archeologo e scrittore Valerio Massimo Manfredi e dal professor Aldo Onorati, collaboratore della prestigiosa società Dante Alighieri. L'agenda 2021 è invece dedicata a Pinocchio con il quale i Carabinieri hanno da sempre un rapporto particolare in occasione dei 140 anni dalla sua apparizione. Chiaramente parliamo di Dante Alighieri a cui la nostra istituzione vuole rendere onore nei 700 anni dalla ricorrenza della sua morte e lo fa attraverso un'opera che mette in evidenza la assoluta e perenne attualità degli insegnamenti danteschi rispetto alle vicende della vita umana che per i Carabinieri in gran parte si sovrappongono alle esperienze del servizio, le stesse che sono narrate dal protagonista dei racconti che sono racchiusi nelle 12 tavole.